Grazie e benvenuti in questo nuovo video Mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale E detto questo ragazzi, oggi siamo su un nuovo gioco Ultimamente sto portando nuove cose perché sono belle le nuove cose Mi piacciono le novità E anche a voi immagino che vi piacciono le novità Oggi ragazzi siamo su House Flipper Esatto, è un gioco che ho visto per un po' di tempo Adesso ultimamente ritornare di moda E se devo essere sincero per un periodo ci ho giocato off camera E mi è piaciuto veramente molto Quindi mi è tornato in mente il gioco E mi è venuto in mente appunto riportarvelo Fatemi sapere se volete vedere altri video su questo gioco Secondo me ci sta una piccola serie di qualche episodio su questo gioco Tipo 10 episodi Secondo me ci sta perché è carino Fatemi sapere magari voi nei commenti E magari fatemelo sapere anche lasciando qualche like e qualche iscrizione Detto questo, iniziamo Allora per chi non conosce il gioco Consiste nel ristrutturare E diciamo Le varie case E diciamo ristrutturare case In poche parole E anche levare la spazzatura ovviamente Certo Allora poi Allora vediamo Qua abbiamo i compiti Abbiamo già fatto buttare la spazzatura in cucina Però in teoria dobbiamo anche lavare infatti le finestre Che sono più sporche di Non so Una finestra dopo che ci ha sputato sopra Ci ha stannutito sopra un elefante Ci ha scatarrato un elefante Pensate che schifo Sapete se gli elefanti scatarrano? Bah Vabbè Detto questo Puliamo la finestra Ed eccoci qua E è sbrillucicosa Poi Andiamo avanti Eccomi qua Detto questo Adesso in cucina abbiamo finito tutto Dove dobbiamo andare in camera diretta in bagno Questo è il bagno dove dobbiamo buttare la spazzatura Ecco fatto Pulire le finestre assolutamente Perché anche qua Qui non ci ha scatarrato un elefante Qui probabilmente ci ha scatarrato un babuino Perché lo scatarro è più denso Ma vabbè Smettiamola di andare a Infiltrarci in queste cose Che non ci riguardano E che fanno anche un po' schifo Poi Che cosa c'è scritto qua? Alcuni compiti riguarderanno solo gli oggetti scelti dal cliente Quando sei nella stanza giusta Capirai in fretta cosa devi fare In questo tipo di compiti Gli oggetti sono evidenziati con colore arancione Ok quindi Se dobbiamo mettere a posto qualcosa scelta dal cliente Ce lo evidenzia in arancione Senza che dobbiamo stare noi a A impappinarci con la mente Poi qua No questa è la cucina che abbiamo già fatto Questa in teoria è la camera da letto Esatto C'abbiamo anche una consola Che in teoria è buona Allora aspettate perché Aspettate perché vi vedo una cosa Allora In teoria Aspetta ne sto pensando No forse ancora no perché siamo No perché stavo pensando di scannerizzare queste cose Per vedere se le potevamo vendere Però non penso ancora possiamo usare lo scanner Perché ancora siamo All'inizio inizio Questa è proprio la prima casa Ok adesso mettiamo bene la sedia Vedete queste per esempio Vedete queste per esempio Sono le cose evidenziate in arancione che ci diceva Poi anche questa lampada la dobbiamo rimettere qua Ecco fatto Questa notifica non ci interessa E poi dobbiamo mettere il quadro messo bene Perché era tutto un po' più in alto Che sennò poi quando ti alzi dal letto ci dai una craniata sopra Ed ecco fatto E abbiamo ricevuto i nostri primi soldazzi I primi 1000 euro Perfetto La prossima casa mi sembra di vedere che fa Un bel po' ribrezzo Un bel po' molto ribrezzo Ok No non voglio shoppare Non penso sia utile shoppare in questo gioco Allora Mamma mia che schifo Ma che porca ma cosa ci hanno fatto qua dentro Boh vabbè A parte che qui vedo macchie di sangue Quindi penso che quello che abbiano fatto È anche parzialmente illegale Ma lasciamo stare Potrei 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 far partire una denuncia Ma preferisco non farlo Allora Se mi sentite un po' più borbottante È perché non sono a casa mia Perché di solito a casa mia non è un Cioè a casa mia non è un condominio E quindi sono più libero di strillare quanto mi pare Qua invece c'è un condominio quindi Mi devo un attimo adattare Quindi se mi vedete un po' borbottante Non è nulla di preoccupante Questo che è Ah l'illuminazione Non penso che dobbiamo farci qualcosa Allora aspettate Qua però ci evidenzia la porta Forse la dobbiamo cambiare La dobbiamo changeare Molto probabilmente sì Per esempio comprando questa E Quindi Aspettate Profilo Strumenti Ah qui ci abbiamo tutti gli strumenti Questi sono gli achievement E queste sono le opzioni che non ci interessano Aiuto Ho paura di starmi impappinando Vabbè la porta per ora la lasciamola stare Ah detto questo Adesso puliamo tutto lo sporco con il mocio Che poi da quando in qua si puliscono le pareti con il mocio Non lo so Però vabbè Lasciamo stare Quindi pure qua che qua ci hanno fatto una man bassa assurda Muffa Cioè addirittura il sangue Una roba assurda Ci ha dato un po' Siamo aumentati di livello Ci ha dato anche un po' di soldi Dobbiamo intonacare? Mi pare di sì Intonacchiamo per bene Faccio il bianco così Noi siamo un po' scrausi Cioè il bianco ci va bene Basta che È economico e non ci va bene Ho bisogno di più intonaco Ok così prendiamo l'intonaco E qui lo spalmiamo per bene sulla parete Che bella animazione Ecco fatto E abbiamo intonacato le pareti Anche se è di un colore completamente diverso Non è che può pretendere troppo Allora Detto questo C'è qualcos'altro da pulire qua? Non mi sembra Qua magari Qualcosa di annidato sotto i pertugi No Boh A me non sembra Quindi penso di no No Ok va bene Andiamo avanti Allora Apriamo Qua non possiamo aprire? Forse dobbiamo mettere un'altra porta? Tipo ruggire La miseria quanto costa il ruggilegno No Il cliente non sarebbe soddisfatto Questa No E allora non la sostituisco Qua dentro? Ah qua dentro Ah qua c'è A parte che non si può Da qua in qua si pulisce col mocio sopra il tavolo Ma io boh che schifo Vabbè lasciamo stare Poi Andiamo avanti Comunque è molto bello questo salotto Rispetto Cioè rispetto Cioè guardate la differenza Le pareti tutte brutte qua tutte vecchie Qua invece tutto rosso e moderno Molto più bello Poi qua ci assicurano Qua ci sono due opzioni O È cagarella No non è cagarella O è stracciatella Oppure Non so È arrivato un piccione Uccellone dalla finestra E gli ha scagazzato ovunque Nella cucina Questa è probabilmente zucca Ok Poi evitiamo anche di non dire troppe cagate Perché Se poi ci sentono quelli I vicini Di portone Pensano che siamo matti Quindi Evito di dire Particolari cagate Detto questo Non mi sembra Che ci sia qualcos'altro Da risistemare Qua Era abbastanza pulito Sì Vediamo qua Allora Corridoio Sostituisci Gli attivizzati Che la porta E non capisco come devo fare Poi Dobbiamo pulire lo sporco In bagno Devo montare un radiatore E qual è il bagno Questo immagino E infatti No Qua Cosa è successo Qua la doccia La doccia era un po' Scrausa Vabbè Non so qua c'è Terriccio Sullo specchio Ma Vabbè Lasciamo stare Chi ha Chi ha del terriccio Sullo specchio Scriva Un hashtag Terriccio Nei commenti Ma Penso che nessuno Ce l'abbia Quindi penso che Non troverò nessun hashtag Terriccio Nei commenti Qua invece c'è Il radiatore rotto Da montare Impianti Perché noi ovviamente Non siamo soltanto Cioè noi siamo Restauratori Siamo I signori delle pulizie Siamo I lavatori di finestra Siamo anche I draurici Siamo tutto Allora Quindi Ha detto che gli serviva Un radiatore corto Quindi noi È quello che gli prendiamo Ecco qua Perfetto Abbiamo attaccato Il radiatore Detto questo Penso che Basti così Sì In bagno sì Ok E devo ancora sostituire Questa Da cavolo di porta Che non ho idea di come Sostituire Allora aspetta Perché in teoria Non ci do qua La cosa delle porte Però io qua vedo Un rank Non Non so Forse vuole Questa il cliente No Allora vuole Questa vetrinata Il cliente Ecco Ok Fatto Fatto no Ma che è ancora Ma che è ancora Lampeggia Oh io Io l'ho sostituita La porta Però ma Questo possiamo Levarlo Da qua Perché Tanto non serve più E Come Come faccio a levarlo No vabbè Non lo levo E qua come faccio Però non capisco Perché Cioè Devo In qualche modo Cambiare la porta No Boh La cambio con questa Eccola Perfetto Perfetto Ci ha dato 3500 E beh Un buon ammontare di soldi 3500 E' veramente Un buon ammontare Ok Detto questo Arriviamo alla prossima casa Però Non andiamo troppo avanti Quindi Se mi prende un attimo il gioco Ricordatemi che non dobbiamo andare avanti Allora Questa casa mi sembra molto bellina Però Dobbiamo dipingere le pareti Perché sono un po' tutte Sbiadite Quindi Allora Mi servono le vernici qua Perché Non si può dipingere senza vernici Allora Abbiamo diversi colori E Siccome la parete più o meno era giallo Prendiamo questo qua Che non è Questo non è un giallo Però Questo è Era giallo Eccolo qua Che poi in realtà Il segreto Che Non è che lo prendo Perché mi ispira Lo prendo semplicemente Perché costa di meno Perché Non voglio spendere troppo Lo so Sono tirchio Adesso Prendiamo un po' di giallognolo E qua Dipinciamo le pareti Ecco fatto Perfetto Anche qui No Ancora No Me ne serve altre vernice Tanto ci abbiamo un barattolo intero Quindi Sicuramente La vernice Ci basta Ecco fatto Poi se in caso Non ci abbiamo problemi Tanti soldi ce li abbiamo Ne possiamo prendere pure un altro barattolo Ecco fatto Prendiamo qua E anche No Ci serve altre vernice Che Ci ho fatto terminare Il muro a metà Ecco fatto Allora Eccoci qua Comunque ragazzi Se non siete andatelo a vedere Quanto sono forte in italiano Se ancora non l'avete visto Andate a vedere il video di giovedì Che è successo giovedì L'ho provato per la prima volta Roblox pauroso Che è stata un'esperienza molto Un po' Che mi ha fatto cagare addosso Però è un po' bellina Anche molto bellina Quindi Se non l'avete ancora visto Mi raccomando Andatelo a vedere Spolliciate anche quel video Ok Perf Mi pare di aver finito tu No qua Qua non l'avevo finito Quanto ero scarso Ok Ah Le piastrelle adesso Dobbiamo mettere Prendiamo le piastrelle Allora Le piastrelle Parlo così con la Earemoscia Perché è figo Allora Prendiamo tipo Semplice Sistemato Oddio Il semplice costa di più Prima prende il sistemato No Riversi i segmenti evidenziati Con il pannello rotto Ah quindi solo quelli E quali sono i segmenti evidenziati? Ci sono segmenti evidenziati? Sono tutti Boh Vediamo se ci sono segmenti evidenziati Ma non mi pare Ma devo farlo qua? Cioè, no, perché non so, non sto capendo se devo farlo qua o magari in un'altra stanza Vediamo, forse qua No? No, non mi sembra Ecco qua, qua c'è qualcosa di evidenziato Ecco qua dobbiamo farlo, ok? In questa stanza Perfetto Quindi dobbiamo mettere tutte le piostelle bene Però stiamo spiegando Qua ci devono dare tanti soldi perché ci stiamo mettendo Oltre la mano d'opera ci stiamo anche mettendo il materiale che è nostro Quindi, cioè, qui ci devono dare ancora più soldi E dai su Ma non lo so mica io Ma dobbiamo farci sfruttare in questa maniera Ma io non lo so proprio Vabbè, allora, non lo so obrobrio o non lo so proprio Mi era uscito una specie di obrobrio, ma vabbè Allora, eh, stiamo spiegando una caterba di soldi E qua ci devono risarcire Perché il gioco Perché dovete sapere che la mentalità di House Flipper è essere avari Se tu su House Flipper sei avaro Allora hai praticamente vinto il gioco È un mio segreto by Tobi Ok, in teoria ho finito, no? Qua magari anche Ecco fa Ma quanto siamo forti Continua Ci do anche le monetine Ah, possiamo Ok, possiamo fare un miglioramento Possiamo migliorare la spatola per piastrelle Dove sta? Ecco, la migliora Perfetto Adesso Spiastrella più veloce la nostra spatola per le spiastrelle Non ci manca nient'altro, no? Mi sembra In teoria Sì Forse qualcos'altro qui, magari Che mi son perso, no? No, mi sembra E allora perché continuo a evidenziarle? Aspettate Corridoio Rivesti i segmenti Ah, lo devo fare in salotto adesso No, questo è il salotto, scusa Eh sì, questo è il salotto E però scusa A me mi dice che non ho fatto nulla Forse devo prendere altre piastrelle Probabilmente Vediamo Qui magari Non so Cioè, mi continuo a evidenziare tutto Forse adesso devo farlo col legno Probabilmente adesso devo farlo col legno Eh, infatti sì Ehi, guardate Guardate quanto è veloce col miglioramento Sta essendo molto più veloce col miglioramento Comunque House Flipper è veramente un gioco carino Cioè, ti dà anche quel senso di rilassamento molto Molto soft Molto Proprio Mua Proprio un cliché fantastico Cioè, secondo me Inizialmente pensavo meritasse di meno Se devo essere sincero Pensavo meritasse di meno Invece adesso mi sto Sto carpendo Che merita anche di più Quindi Cioè, secondo me Su questo gioco una serie Cioè, va fatta per forza di cose Ragazzi Secondo me Va fatta per forza di cose Poi non so Ditemi voi Ma secondo me Deve essere così per forza Allora In teoria ho fatto Non so Devo fare ancora un altro strato di piastrelle L'ho anche sputato Boh Qui che mi dice Riversi segmenti evidenziati Con pannelli Ma io già l'ho fatto Cioè, ecco il pannello Era il pannello semplice L'ho fatto Non so Devo fare un altro pannello Adesso quello Questo qua Ah Rotto Ah, ho sprecato soldi inutilmente Perché C'era proprio il pannello Che si chiamava rotto Vabbè Perché un pannello Si dovrebbe chiamare rotto Non lo so Però vabbè Quindi abbiamo Abbiamo sprecato soldi inutilmente In poche parole Vabbè È comunque un gioco molto bellino Anche se ogni tanto Ti fa delle truffe un po' Perché io rotto pensavo Che intendesse Che sono i pannelli Di prima che erano rotti Invece rotto È proprio il nome del pannello Non si sa perché si chiama rotto Non lo so Probabilmente il gioco L'ho fatto al posto Per truffarti E rubarti i soldi Ok, perfetto Continuiamo Che abbiamo quasi fatto Comunque Con il miglioramento Va molto più veloce Rispetto a prima Questo attrezzo Per piastrellare Ok E posso addirittura Terminare l'ordine prima Continua Ecco fatto E la miseria Siamo ordine completa Mamma mia Stiamo essendo proprio Una cosa Mua Proprio Mua Proprio Mua Proprio Mua Vabbè Basta Perché sennò poi esagero Allora Mamma mia Maronna mia Cos'è successo Cos'è successo Ecco Qua abbiamo sbloccato Un botto di roba C'abbiamo pure il tablet Adesso Sapete che vi dico ragazzi Che vi dico ragazzi Questo gioco deve per forza Continuare Perché mi sta piacendo Un botto Veramente Mi sta Mi sta sconfifferando Il squartunfero Un botto Però per questa volta Ci possiamo anche Fermare qua Perché il video È durato anche fin troppo Quindi ci fermiamo qui E quindi Ci vediamo sicuramente In un prossimo video E quindi Ragazzi Da Tobi Ciao 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 Grazie a tutti.